Molto spesso oggi si tende a dire ma sì le nuove generazioni, i ragazzi sono superficiali, sono... Invece probabilmente poi se si riesce a parlare loro davvero, i ragazzi sono più che ricettivi perché poi lo dimostrano veramente anche le mail che ti mandano. Tra l'altro volevo darti nel caso in cui magari vuoi leggerci qualcosa, qualche mail che qualcuno ti ha mandato, che ti è rimasta particolarmente... Guarda, adesso la cerco perché secondo me è l'emblema della gioventù di oggi. Cioè tu prova a pensare, io a un certo punto nella lezione, l'ho trovata, nella lezione gli dico ragazzi ma visto che le cose importanti è avere un sogno, credere, voi ce l'avete un sogno? Se dico questo in una quinta elementare, cioè veramente mezz'ora per dover ascoltare tutte appunto i loro sogni, il dottore la velina in televisione, il medico, il pilota, cioè veramente una lista, arrivo in quinta superiore, chiedo la stessa cosa, qual è il vostro sogno? E la risposta tante volte, meno male non sei, boh, non lo so, a me va bene tutto. Ora se ti va bene tutto ti va bene anche una sedia a rotelle. Bisogna imparare a decidere cosa vogliamo, a scegliere come indirizzare il nostro potenziale creativo perché se porta tutto può succedere di tutto. Io voglio credere nel mio sogno e allora le energie e la vita ti viene incontro per raggiungere quel sogno se è possibile. Se poi non è possibile sono convinto che lo scopri strada facendo. Senti guarda, sono proprio poche righe, però ci permette di conoscere come sono i giovani di oggi, cosa fanno con noi adulti. Questa è una ragazzina di 14 anni che mi dice, anche perché premetto, i professori mi dicono sempre oh ma Alessio due ore di lezione con i ragazzi, ti diciamo subito che non reggono, non vanno più via i ragazzi, vogliono rimanere lì. Infatti lei dice, la messa dura 45 minuti, a me sembrano un'eternità, il tuo discorso è durato due ore e mi sono volate via. Mi hai trasmesso tanta gioia, un senso di pace enorme. Quando sono tornata in classe sono scoppiata a piangere e all'inizio non capivo perché, poi dopo ho capito. Senti cosa dice. Era un pianto liberatorio perché era da tempo che nessuno riusciva a entrare con le sue parole, nella mia anima e nel mio cuore e il fatto che tu ci sia riuscito mi ha fatto paura perché il muro che di solito utilizzo quando parlo con gli altri per non farli entrare dentro di me in modo tale che non mi facciano soffrire, era sparito. Cioè, questi giovani di oggi tirano su un muro, chiacchierano ma non sono loro stessi per la paura che qualcuno entri e li faccia soffrire. Ecco, questo io lo chiamo l'emblema un po' della gioventù. E quindi si va in giro a cercare di, eh, desiderio di distingersi dal branco ma non vogliono distinguersi sotto sotto, è una contraddizione, perché hanno paura di essere criticati, hanno paura di soffrire, che qualcuno gli dica, ah, hai fatto una figura di merda, si può dire. Ecco, questo è un terrore per i giovani di oggi. Però vogliono comunque fare qualcosa per distinguersi dal branco. E allora tante volte rischiano la propria vita, senza rendersi conto. Ecco perché invito sempre a leggere il libro, con una marcia in più. Sta avendo un grande successo, mi chiamano sempre più scuole. Domani sarò anche a presentarlo a Roma, quindi, eh, sono sempre in giro in queste presentazioni. Ma tra l'altro hai anche rincorso per fior di personaggi che hanno poi firmato la presentazione del libro. Chi è che c'è? Allora, Valentino Rossi l'ho visto. Michael Schumacher, insomma, il grande Michael. Felipe Massa, eh, ferrarista di oggi. Nico Rosberg, un amico. Ecco, Nico, eh, del pilota della Williams, eh, è un grande amico. Williams di Frank Williams, anche lui sulla sedia a rotelle, pensa, campione e tutto. Anche lui sedia a rotelle per un incidente stradale alla fine. Quindi Nico Rosberg e poi abbiamo anche Loris Capirossi, un altro motociclista Suzuki MotoGP. Quindi, insomma, qui abbiamo un fior fior. Hai ragionato fior fior di campioni. Però devo dire che Valentino Rossi, ecco, vedete anche qua la foto, penso di essere uno dei pochi fortunati a essere salito sulla moto. Mi hanno aiutato, chiaramente. Fantastico. Però sono salito di Vale e ho cercato di sentire questo bolide che potenza ha, ma anche che sicurezza, perché, eh, vedete, sulla moto 46 del Vale con la... Il team Yamaha di Valentino Rossi è un nostro grande partner per il progetto che voglio realizzare di costruire un centro sportivo riabilitativo aperto a tutti. Ecco, questa è la caratteristica numero uno che vediamo anche sul sito in impressione www.alessio.org uno potrebbe conoscere bene. Io dico che è unico in Europa, perché non ne ho uno. In Italia è sicuramente l'unico, perché vuole usare lo sport come mezzo di integrazione, cioè per avvicinare i disabili che con la riabilitazione possono praticare sport e essere migliori, magari come a me andare all'Olimpiade. È vero. Ma anche per chi, magari vuol venire, che sta bene e fare sport con una qualità superiore, grazie alla medicina dello sport, che ti dice qual è il tuo sport giusto per il tuo corpo, non per fare soldi e vendere le tessere. È vero. Allora, devo raccogliere Silvia una marea di soldi, più di 15 milioni di euro, però la regione Lombardia c'è, alcune banche mi aiutano, tanti privati, abbiamo raccolto milioni di euro in sconti di grandi aziende che vogliono partecipare alla costruzione, però manca sempre qualcosa, manca quel finanziamento, quell'investimento per poter innescare tutta questa macchina. Io sono più di otto anni che lavoro a questo progetto, abbiamo un grande terreno però, due anni fa 16 quadri a Monza, sono tantissimi e questa è stata la prima pietra, quindi speriamo di continuare. Davvero, speriamo veramente, anche perché lo vedo davvero come un progetto, qualcosa che manca ancora, perché forse davvero non c'è ancora questa opportunità. L'apertura totale al pubblico, cioè non è per disabili che uno dice ho fatto un altro ghetto come l'ospedale, è aperto a tutti. Che diventa veramente la marcia in più da questo punto di vista. Magari chi lo sa, c'è un nostro caro amico ascoltatore, magari cercava in questo momento di crisi, come parlavo prima con il vostro regista, che insomma chiacchieravamo, una crisi incredibile, magari, comunque la crisi c'è, ma c'è qualcuno che vuole uscire da questa crisi? Ecco, magari io lo sto trovando grazie a te, Silvia, qua in televisione che mi contatterà e vorrà, non tanto regalare, ma investire, regalare, sappiamo tutti che nessuno ormai più regala niente. Sì, forse proprio nei momenti dove si parla un po' di crisi, che è utile scommettere in qualcosa e investire per un futuro in cui veramente potrà poi diventare un grandissimo progetto. Anche perché qui c'è da guadagnare, quindi non è che stiamo parlando di regalare, come dicevamo prima. Di regalare costituitamente, è vero, è vero, quindi l'augurio sicuramente. Tra l'altro io nel frattempo sono andata avanti a parlare oltranza, non abbiamo lanciato la pubblicità, noi andiamo avanti così a oltranza, facciamo così, lanciamo ora un po' di pubblicità e noi ci rivediamo tra poco sempre con Alessio, restate con noi. Grazie.